Il comune di Agropoli ha aperto un bando per l'attribuzione di 28 progressioni economiche orizzontali riservato ai dipendenti a tempo indeterminato del comune. Queste attribuzioni sono state determinate dal contratto collettivo decentrato aziendale sottoscritto in data 12 dicembre dall'amministrazione. La procedura selettiva sarà divisa per aree ed ogni categoria dell'area avrà un totale di progressioni economiche destinate. Le aree sono segreteria, supporto a organi istituzionali e risorse umane, giudice di pace, affari generali, servizi ausiliari, pubblica istruzione, economico-finanziaria, informatica, entrate tributarie, extratributarie, servizi demografici, turismo, eventi, cultura, sport, commercio, attività produttive e contenzioso, assetto ed utilizzazione del territorio, lavori pubblici, tecnico o manutentiva, porto ed emanio marittimo, vigilanza e pulizia locale. Al bando potranno partecipare tutti i dipendenti dell'ente comunale in possesso dei seguenti requisiti di essere dipendenti a tempo indeterminato del comune di Agropoli in servizio dalla data dell'1 gennaio 2019, aver maturato alla data del 31-12-2018 almeno due anni consecutivi di servizio nell'ultima posizione economica acquisita, anche se prestato totalmente o parzialmente in una pubblica amministrazione tra quelle indicate nell'articolo 1,2 della legge 165-2001, non aver subito nel bienio precedente sanzioni disciplinari più gravi del rimprovero scritto, censura, non aver ottenuto una valutazione insufficiente della prestazione lavorativa negli ultimi due anni. La domanda di partecipazione dovrà essere presentata entro 15 giorni dalla pubblicazione del bando ed in seguito alla valutazione effettuata dai responsabili di area di appartenenza dei dipendenti verranno pubblicate le graduatorie.